Cornice prestigiosa, quella del Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo di Chieti, per la presentazione del volume La Resistenza Tacciuta, le donne raccontano, di Maria Saveria Borrelli, presidente della sezione Ampi Trentino Labarba di Lanciano, per le edizioni Carabba. Un lavoro di documentazione, impegno e testimonianza che restituisce una inedita chiave di lettura gli eventi accaduti a Lanciano dal 1920 al 1940, con la condizione delle donne, la loro resilienza, la loro resistenza, il loro coraggio. Le pagine, a mo' di racconto, con dati, immagini, testimonianze e documenti, sono un viaggio nel ricordo di molte donne accomunate dal rifiuto di ogni forma di violenza, di soprafazione, di minimizzazione o, peggio, di negazionismo. Questo libro ha scandagliato un po' la resistenza della rivolta di Lanciano attraverso il racconto delle donne, perché spesso hanno parlato delle donne, gli uomini, lei sa benissimo che la storia è scritta dalla mano maschile, allora è giusto, finalmente, dopo tanti anni, dopo 79 anni, ascoltare dalla voce delle protagoniste che cosa è stata la resistenza, che è anche resistenza armata, resistenza non armata, umanitaria, accoglienza, sono state infermieri, sono state partigiane, staffette, tutto questo per molto tempo è stato un ruolo misconosciuto, tacciuto proprio, compresso sotto dei grandi macigni e quindi è giusto che finalmente noi ci riappropriamo di un pezzo della nostra storia, perché diceva il partigiano Carlo Smuraglia non parlare delle donne significa fare torto all'intera resistenza italiana. Con l'autrice sono intervenuti Gianni Orecchioni, presidente della casa editrice Carabba, la sociologa Eides Pedicato Iengo, ha moderato la professoressa Barbara Veri, con le letture a cura di Pina De Felice. L'evento ha concluso il nutrito e qualificato calendario di cultura palazzo, con il quale raccogliendo lo stimolo del mondo associazionistico della città e dell'intera provincia e con l'organizzazione del Giardino delle Pubbliche Letture coordinato da Cinzia Di Vincenzo, il prefetto Armando Forgione ha dischiuso le porte del Palazzo del Governo e del suo splendido salone a poesia, musica, teatro e letteratura. E non sono mancati momenti di commozione per lo stesso rappresentante del Governo nel commiato al mondo della cultura e delle associazioni che hanno trovato nella prefettura una casa sempre aperta.